come ti chiami pietro furio domenico quanti anni hai undici nove e mezzo sette otto che vuoi fare da grande perché voglio costruire la casa dei miei sogni perché mi piace guadagnare salvo le persone che non mi ha capito e lei è martina che ti piace di lei e ora falle una carezza falle una boccaccia e ora dalle uno schiaffo uno schiaffo forte uno schiaffo dai no 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 e perché no no ok lei è femmina un giovane sono ed ha perché le femmine non si picchiano perché così si fa male e perché Gesù non vuole far picchiare prima cosa è bellina e non glielo posso dare perché è una ragazza perché sono controlla la violenza sì se anche le donne non si dovevano toccare nemmeno con un fiore e perché è brutto oppure con un mazzo di fiori e perché sono oh dalle un bacino e la vostra data sulla bucca sulla guancia Grazie.